Vai pure! Allora, oggi come mezza canaglia siamo qua, insieme anche ai centri sociali delle Marche, per ribadire due concetti fondamentali. Il primo, che non esiste democrazia per chi si dichiara fascista. A questo ci ispiriamo a una nota frase di Jean-Paul Sartre, che diceva non si può essere democratici, conchiusa la democrazia per poi negarla. Quindi non si può concedere libertà di espressione, di parola, di pensiero e di azione ai fascisti, per la storia che questo paese ha e per quello che rappresenta. In Secondis siamo qua per ribadire che noi siamo assolutamente contrari alla logica populista che vede i problemi risolti nella guerra tra poveri, ovvero poveri italiani contro poveri immigrati. La casa non è un privilegio per alcuni, ma è un diritto per tutti e non va a seconda del colore della pelle. La casa è un diritto di tutti, appunto.